La figura di Maria, madre di Gesù, ha rivestito un ruolo fondamentale nella storia del cristianesimo e in diverse culture religiose. Questo interesse è stato alimentato da una serie di narrazioni, credenze e celebrazioni che nel corso dei secoli hanno contribuito a mantenere viva e vibrante la sua figura. Tra i temi più importanti legati a Maria VI sono le credenze divergenti sulla sua morte e sulla sua assunzione in cielo, il mistero della sua tomba, la proclamazione della dottrina dell'assunzione, le differenze teologiche tra la Chiesa cattolica e quella ortodossa, le storie popolari e le leggende che ruotano attorno alla sua figura, le celebrazioni globali dedicate a lei, l'influenza di visioni mistiche e sante e infine la sua venerazione all'interno di altre religioni, in particolare l'Islam. Questi aspetti offrono una panoramica completa e multidimensionale su come Maria sia diventata un simbolo di devozione, di spiritualità e di fede, non solo per i cristiani, ma anche per molti fedeli di altre tradizioni. Dopo la crocifissione di Gesù, la narrazione riguardante la fine terrena di Maria si diversifica notevolmente, alimentando dibattiti teologici e leggende. La tradizione cristiana è concorde nel collocare Maria tra i primi discepoli a vivere e diffondere la parola di suo figlio, tuttavia, le storie sulla sua morte e assunzione in cielo assumono sfumature differenti a seconda delle diverse correnti di pensiero. Alcuni credono che Maria sia morta naturalmente, assistita dagli apostoli, e che il suo corpo sia stato successivamente trasportato in cielo, altri invece ritengono che sia stata direttamente assunta in cielo senza sperimentare la morte terrena. La Chiesa Cattolica, pur dichiarando dogmaticamente l'assunzione di Maria, non si pronuncia in modo definitivo sulla sua morte, mentre la Chiesa Ortodossa abbraccia la credenza della dormizione, ritenendo che Maria sia morta pacificamente prima di essere assunta. Il mistero della tomba di Maria ha da sempre affascinato e diviso studiosi, credenti e curiosi. Tradizionalmente situata a Gerusalemme, la tomba è stata oggetto di venerazione e pellegrinaggi per secoli. Recentemente, un'ispezione ha rivelato che la tomba era vuota, una scoperta che ha ulteriormente alimentato la credenza nell'assunzione corporea di Maria. Questo evento si inserisce in una lunga tradizione di storie e testimonianze che riportano che il corpo di Maria sia stato assunto in cielo, consolidando l'idea di una resurrezione terrena riservata non solo a Cristo, ma anche a sua madre. Tale vuoto, interpretato come segno tangibile dell'intervento divino, rimane uno dei misteri più evocativi e simbolici del cristianesimo. La proclamazione ufficiale dell'assunzione di Maria come dogma di fede avvenne nel 1950, quando Papa Pio XII emise la Costituzione Apostolica Munificentissimus Deus. Questo atto di dichiarazione dogmatica confermò formalmente la credenza che il corpo di Maria fosse stato assunto in cielo, una convinzione radicata da secoli nella tradizione cristiana e nelle pratiche devozionali, soprattutto in ambito cattolico. Con questa dichiarazione, il Papa non solo confermò una credenza comune a milioni di fedeli, ma sottolineò anche l'importanza della figura di Maria come ponte tra il divino e l'umano. La proclamazione del dogma dell'assunzione rispose anche a un'esigenza culturale e spirituale del tempo, rafforzando l'identità cattolica e offrendo un messaggio di speranza e redenzione, rappresentato proprio dalla figura di Maria, considerata la madre di tutti i credenti. In ambito religioso, la Chiesa cattolica e quella ortodossa condividono molte venerazioni e celebrazioni mariane, ma divergono su alcuni aspetti legati alla morte e all'assunzione di Maria. I cattolici, infatti, mantengono una posizione aperta sulla questione della morte di Maria, non pronunciandosi ufficialmente sulla questione, mentre gli ortodossi credono fermamente nella dormizione della Vergine, ossia la convinzione che Maria sia morta pacificamente e che sia stata assunta in cielo in seguito alla sua morte. Questa differenza, pur rimanendo marginale rispetto all'unità di fede mariana, evidenzia una sfumatura teologica interessante. Per gli ortodossi, la dormizione rappresenta una sorta di passaggio naturale, un riposo prima dell'assunzione, che rispecchia anche il rispetto per la condizione umana e l'accettazione della morte come esperienza condivisa. Le storie popolari e le leggende intorno alla figura di Maria aggiungono un ulteriore strato di fascino alla sua storia, mischiando tradizione, fede e simbolismo. Tra le narrazioni più conosciute vi è quella dell'Apostolo Tommaso, che si dice sia stato l'unico testimone dell'assunzione di Maria. Secondo la leggenda, Maria avrebbe lasciato cadere un cintolo come segno della sua ascesa, una prova tangibile del miracolo in corso. Questo racconto, come altre storie medievali, riflette il desiderio di dare testimonianza concreta alla fede, trasformando simboli in segni visibili per i credenti. Al di là dell'interpretazione letterale o metaforica di queste storie, esse sottolineano la relazione profonda tra Maria e la comunità dei fedeli, rafforzando l'idea che la sua figura trascenda la dimensione umana. Le celebrazioni dell'assunzione di Maria si svolgono il 15 agosto in molte parti del mondo, assumendo sia una dimensione religiosa che una valenza culturale e sociale. In numerosi paesi europei, africani e sudamericani, la festa dell'assunzione è osservata come festività nazionale, con messe solenni, processioni e manifestazioni che testimoniano la grande devozione verso Maria. Questa celebrazione globale rappresenta un momento di unione e di comunione spirituale, ma riflette anche la diversità delle tradizioni e delle usanze locali. Da processioni in abiti tradizionali a riti devozionali specifici, ogni cultura aggiunge il proprio contributo alla celebrazione dell'assunzione, rendendo omaggio a Maria in modi unici e distintivi. La diffusione di questa festa su scala mondiale testimonia l'influenza profonda e duratura della figura di Maria nella vita spirituale di milioni di persone. Le visioni e le rivelazioni mistiche hanno avuto un impatto significativo sul culto mariano, offrendo nuove prospettive e alimentando il fervore popolare. Una figura emblematica in questo senso è Miriana, la mistica di Meggiugorie, le cui visioni della casa di Maria a Efeso hanno contribuito a localizzare un luogo oggi meta di pellegrinaggi. Le sue visioni dettagliate hanno suscitato un grande interesse, rendendo la casa di Maria un luogo di raccoglimento e di preghiera per i pellegrini che cercano un'esperienza di vicinanza spirituale alla Vergine. Questi fenomeni mistici rappresentano una dimensione particolare del culto mariano, in cui la fede personale si intreccia con esperienze profonde e spesso insondabili. Le testimonianze dei mistici alimentano la devozione e conferiscono alla figura di Maria una presenza concreta, quasi tangibile, nel vissuto dei fedeli. Infine, la venerazione di Maria si estende oltre i confini del cristianesimo, trovando spazio anche in altre religioni, tra cui l'Islam. Nella tradizione islamica, Maria, Mariam, è rispettata come una figura pura e santa, la madre del profeta Gesù, Isa, e il suo ruolo spirituale viene riconosciuto e onorato. Secondo alcuni racconti, il profeta Mahometto avrebbe visto una luce sulla tomba di Maria, interpretata come un segno della sua purezza e del suo elevato status spirituale. Questo aspetto interreligioso della venerazione di Maria rappresenta un ponte tra diverse tradizioni, evidenziando valori comuni come la purezza, la maternità e la devozione. La figura di Maria, così come è riconosciuta nell'Islam, diventa un punto di incontro tra fedi diverse, un simbolo di dialogo e di rispetto reciproco, che va oltre le divisioni dottrinali per esprimere un ideale condiviso di santità e di fede. In sintesi, la figura di Maria si erge come una delle più importanti e universali nella storia delle religioni, attraversando confini geografici, culturali e spirituali. Le credenze divergenti sulla sua morte e assunzione, la scoperta della sua tomba vuota, la proclamazione del dogma dell'assunzione, le differenze tra cattolici e ortodossi, le storie e leggende popolari, le celebrazioni globali, le visioni dei mistici e la venerazione in altre religioni sono tutte testimonianze del suo impatto duraturo e della sua capacità di unire i credenti sotto un comune sentimento di devozione.